Dobbiamo cominciare col comprendere che noi siamo organismi nell'ambiente. Il corpo è un organismo in un ambiente, interdipendente con l'ambiente. Nello stesso modo, quando parliamo della mente, dobbiamo comprendere che la mente non è cosa separata dal corpo. Ciò che chiamiamo mente è un'attività del corpo. Per indicare la mente, il Buddha adopera tre parole, cit, manas e vignana, che ora cercheremo di rendere, secondo la moderna terminologia scientifica, nella nostra lingua. I nostri corpi presentano cinque organi di senso. L'occhio, l'orecchio, il naso, la lingua e il corpo stesso in quanto organo di senso. Quando la luce colpisce l'occhio, noi vediamo. Quando il suono raggiunge l'orecchio, noi sentiamo. Quando gli odori arrivano al naso, noi li odoriamo. Quando i sapori arrivano al palato, noi li gustiamo. Quando un oggetto tocca il corpo, noi lo tocchiamo, lo sentiamo. Questi sono i cinque sensi esterni che, stimolati dall'ambiente, reagiscono allo stimolo. La reazione dei sensi allo stimolo dà luogo al vedere, all'udire, al fiutare, al gustare, al toccare. Questo è ciò che chiamiamo percezione. Percezione dell'occhio, percezione dell'orecchio, percezione del naso, percezione della lingua, percezione del corpo. Il Buddha chiama questa percezione vignana. La parola che il Buddha impiega è vignana. Vignana è la percezione. Ora, ciò che viene percepito viene trasmesso al cervello tramite i nervi. Il nervo ottico trasmette i dati dall'occhio al cervello. Il nervo acustico trasmette i dati dall'orecchio al cervello. Il nervo olfattivo trasmette i dati dal naso al cervello e così via. I nervi sono come cavi telefonici che trasmettono dati dagli organi di senso al cervello, un po' come la fibra ottica. Qui lui parla di cavi telefonici, ma la fibra ottica è molto più simile ai nostri nervi. Si chiama fibra ottica proprio per quello. Nel cervello c'è una parte chiamata cerebro o corteccia cerebrale. Questa è la neocorteccia, ovviamente. Questa è la parte pensante, la parte più evoluta del cervello. Il Buddha la chiama manas. Ciò che il Buddha chiama manas è la parte pensante del cervello. La parte pensante è quella che dà significato a ciò che viene visto, sentito, fiutato, gustato oppure toccato. In accordo col significato attribuito sorge un'emozione. Nella forma di un desiderio o di un'avversione o di paura o di preoccupazione. Questa è l'eccitazione emozionale. Il suscitatore di emozioni è citta. Così citta è la parte della mente che suscita le emozioni. L'energia che suscita le emozioni viene chiamata cittavega, energia suscitatrice di emozioni. Lo stato emotivo in italiano si chiama umore o temperamento. Questo è lo stato emotivo. Lo stato emotivo può essere eccitato oppure calmo e tranquillo. Normalmente le emozioni sono calme, ma quando c'è eccitazione allora hanno luogo il desiderio o l'avversione o la paura e la preoccupazione. Quando l'emotività che si colloca in questa zona è eccitata, allora si esprime in parole e atti. La parte che implica l'azione verbale o fisica è ciò che chiamiamo karma. Ciò che chiamiamo karma è la parte comportamentale susseguente alla percezione. Ora, in questa parte comportamentale c'è una differenza tra gli animali e gli esseri umani. Per esempio, quando arriva un estraneo il cane comincia ad abbaiare. Invece l'essere umano ha la capacità di pensare e decidere se comportarsi emotivamente con rabbia o paura oppure stare calmo e parlare all'estraneo. Questa capacità di scelta è caratteristica degli esseri umani ed è ciò che viene chiamata cetana o forza di volontà o intenzione. L'essere umano ha questa forza di volontà o intenzione o cetana. Ed è per questa ragione che il Buddha dice che il vero karma sta nell'intenzione, nella decisione che prendi prima di cominciare a parlare, fare o fare o agire. Nell'insegnamento del Buddha troviamo tre parole che si riferiscono al processo cognitivo. Vignana, Sagna e Pagna. Tutte e tre queste parole presentano un etimo comune nella radice indoeuropea igna, sanscrito ignano, impronunciabile per me, che ritroviamo anche nel verbo attico gignosco e in quello latino cognosco. Naturalmente il derivato italiano conosco, ma non c'è nell'italiano se è fluidificato l'incontro delle due consonanti e quindi già cognosco il gn dura diventa morbida e quindi da cognosco diventa cognosco e lo vabbè. Però la radice è questa sanscritta europea gn, da cui viene anche gnosis e tanti altri vocaboli che fanno parte del nostro lessico. Allora, per spiegare la differenza tra questi tre livelli di apprendimento, potremmo dire, c'è una similitudine, una parabola. Fate conto che vi siano tre persone. Un bambino in età prescolare, cioè che non va ancora a scuola, un villano totalmente incolto e un cambio a valute che guardano lo stesso mucchio di monete sul bancone, sul bancone del cambio a valute. Il bambino vede solo che le monete riportano delle figure, delle iscrizioni e degli ornamenti e che sono di forme e dimensioni diverse, ma non sa che hanno un preciso valore di scambio. Il villano sa che le forme, le iscrizioni, le figure, le dimensioni diverse delle monete, identificano il loro valore di scambio per l'uso commerciale. Non conosce tuttavia distinzioni come questa moneta è buona, questa è falsa, questa è fuori corso, eccetera. Solo il cambio a valute padroneggia tutti e tre questi generi di conoscenza che ha acquisito col tempo, saggiando le monete, ascoltando nel suono quando vengono fatte risuonare e facendo uso dei sensi per riconoscerle l'odore, il sapore e il peso in mano, indizi dai quali deriva che è stata fatta in un certo luogo, da una certa zecca, sul disegno di un certo maestro orafo e così via. E questo può essere un esempio. Allora, la percezione vignana è come il bambino che nella moneta vede solo le figure, le forme, le iscrizioni e le altre caratteristiche così come si presentano. Vede benissimo, vede tutti i particolari, ma vede solo quello. Il riconoscimento, sagna, è come il villano che sa che le iscrizioni e le dimensioni delle monete identificano un valore commerciale di scambio. La comprensione, invece, pagna, è come il cambio a valute che sa anche distinguere se la moneta è buona o falsa, oppure se è fuoricorso, o fior di conio e quale zecchia l'abbia battuta, in quale anno, su disegno di quale maestro orafo, eccetera. E inoltre ne conosce anche il valore numismatico. Sapete, il valore numismatico è il valore che una moneta ha, indipendentemente dal suo valore facciale. Se la moneta è rara, è ricercata dai collezionisti e allora acquisisce un valore numismatico. Cambia valute, conosce anche quello. Ecco perché l'atto di comprensione, pagna, va inteso come un sapere in un particolar modo differente dalle modalità della percezione e del riconoscimento. A questo le parole è comprensione nel vero senso di un atto profondo di comprensione, si riferiscono. Tuttavia non sempre si trova dove stiano la percezione e il riconoscimento, ma quando c'è la comprensione, essa non è scollegata dagli altri due stati che la precedono. Ma poiché non sempre si può identificare questa è la percezione, questo è il riconoscimento, questa è la comprensione, si tratta di una differenza sottile e difficile da vedere. Perciò il venerabile Nagasena disse, una cosa difficile o re ha fatto il sublime. E qual è, venerabile Nagasena, la cosa difficile fatta dal sublime? La cosa difficile o re fatta dal sublime è la definizione degli stati immateriali della coscienza e dei suoi concomitanti che si verificano in un unico oggetto e che egli ha tuttavia indicato così. Questo è il contatto, questa è la percezione, questa è la sensazione, questo è il riconoscimento, questa è la reazione. Capite? No, forse non capite il motivo di tutta questa tetrapiloptomia, in questo andare a spaccare il capello in quattro. Per noi è molto importante quando si parla di pratica meditativa, saper distinguere tra queste varie fasi attraverso le quali le informazioni e la conoscenza passano dal mondo esterno al mondo interno. Sulle porte dei sensi c'è la percezione, le porte vengono chiamate porte della percezione. Ora questa percezione usa questa parola vignana, per la quale però sia in sanscrito sia in pali si intende anche qualcosa che noi chiamiamo coscienza. Ma attenzione, non la coscienza, che purtroppo è una parola che poi è stata abusata, quindi abbiamo la coscienza politica, abbiamo la coscienza cosmica, abbiamo la coscienza, dice sei senza coscienza, hai fatto l'esame di coscienza, una persona coscienziosa. Se noi dessimo a vignana il significato di coscienza, saranno nei guai, perché non potremmo più identificarla proprio come la coscienza percettiva, ossia quella coscienza che è quella dei medici, quando dicono è cosciente o incosciente, vuol dire acceso, spento, punto, finisce lì. Se la persona è cosciente, tac, è come un televisore, un televisore acceso è in condizioni di ricevere, di ricevere dati, il televisore li riceve dal lettere e la persona li riceve dall'ambiente circostante. Ma funziona? Noi creiamo delle cose che sono a nostra immagine e somiglianza. A che televisore è fatto? A immagine e somiglianza della nostra mente, per non dire il computer. Comunque un televisore acceso è in grado di ricevere. Se appare qualche cosa, un'immagine, bene, questa è la percezione, la sensazione. Percezione e sensazione sono pressoché immediate. Nel momento in cui percepiamo qualcosa abbiamo una sensazione. Questa sensazione è come quando ci appare appunto un'immagine sullo schermo. Può essere, oh Dio, come si chiamavano questi? Dioram? No, non era Dioram, c'è un altro nome, ma non importa. Ci appare un paesaggio, va bene, e noi vediamo un paesaggio. Ma se vediamo, se alla cosa che ci appare possiamo dire un paesaggio, siamo già nel passaggio del riconoscimento, cioè dal bambino che vede solo il televisore aperto, acceso, e poi appare un'immagine che il bambino non è in grado di riconoscere, a cui non è in grado di dare un nome, mettiamo un dipinto di Pollack. Allora arriva invece quello che lo sa, Pollack, c'è il riconoscimento. E poi arriva invece il capofamiglia che dice, ah sì, ma quel dipinto di Pollack è molto prezioso, è esposto, che ne so, a New York, a Metropolitan Museum, un'opera molto importante, poi spiega che Pollack ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ha ricevuto questi riconoscimenti, eccetera. Vedete, sono i tre livelli di conoscenza. Uno è semplicemente vedere la cosa. Vedere, sentire, fiutare, gustare, toccare la cosa. Ma a questo fanno seguito degli altri momenti mentali, alla mera percezione fa seguito subito la sensazione. È immediato. È tanto immediato che per noi quando tocchiamo ci sfreghiamo la mano, è tutto insieme. In realtà si tratta di diversi momenti mentali. E questi momenti mentali è importante distinguerli perché questa conoscenza dei vari momenti mentali ci aiuta a portare, a praticare con più competenza la nostra meditazione. Questo testo, quello della paticcia Samopada, è uno degli insegnamenti più profondi e forse anche più difficili, di più difficile comprensione. Praticamente è la spiegazione del Buddha di come vengono all'origine tutte le cose, in che modo avviene la genesi di tutto questo universo. E lui spiegò che queste le cose vengono all'essere seguendo una catena di 12 anelli che sono le cause causanti, che producono cause causate a loro volta, causanti fino a creare questa catena che dà una spiegazione di come avvenga la nascita, la vita, la morte e tutto il resto. All'origine, all'ora zero di questo orologio che ha 12 elementi, il Buddha pose avidya. Avidya, avidya in sanscrito, è la nescenza. Vi spiego perché preferisco usare la parola nescenza, perché la parola ignoranza ha una connotazione di un po' anche giudicante e implica anche una certa responsabilità della persona ignorante che vuole rimanere tale. In realtà la nescenza è qualcosa che ci riguarda tutti, perché noi non sappiamo, sappiamo poco e quel poco lo sappiamo anche male. Perciò tutti quanti siamo nescenti, perché anche il più sapiente tra gli uomini non sa praticamente nulla. Anche la scienza procede a passo a passo e la conoscenza che abbiamo oggi, che ci sembra veramente evoluta e anche magari soddisfacente, in realtà non è la conoscenza di tutto. Noi conosciamo solo una piccola parte dell'universo e di ciò che lo compone. Ci sono, come diceva Shakespeare, in cielo e in terra più cose di quante ce ne siano nelle nostre filosofie. Allora, il Buddha, mettendo all'origine della genesi interdipendente Avigia, non dice che tutto ha origine dall'ignoranza, non è così. L'essere che nasce, cioè noi, l'essere che viene al mondo, noi e tutti gli altri esseri, nasce ignorante, nescente, non sa niente. Ha un bagaglio di conoscenza che gli viene trasmesso attraverso il DNA dai suoi antenati, per cui abbiamo una specie di ROM, Read Only Memory, dentro di noi con delle istruzioni per la vita, ma sono istruzioni veramente basic. In questa Read Only Memory, in questa ROM, noi abbiamo, per esempio, l'istruzione che dobbiamo mangiare, sopravvivere e riprodurci. L'izzinto riproduttivo arriva dopo, ma mangiare e sopravvivere sono già lì alla nascita. Non appena il bebè esce dall'utero materno, subito cerca il seno per il latte. Piange, è dotato già di tutti gli strumenti per attrarre l'attenzione parentale, senza la quale non potrebbe assolutamente vivere. Il bambino, a causa del cranio degli esseri umani, deve nascere in un certo senso prematuro, prima di essersi completamente formato, perché altrimenti con la testa troppo grossa non potrebbe più uscire. E quindi, a differenza dei bambini e di tanti altri mammiferi, l'essere umano nasce con una predisposizione ed un corredo genetico che fa sì che lui sia già dotato delle cose che gli consentono di attrarre l'attenzione parentale, soprattutto quella della madre, senza la quale non potrebbe sopravvivere. Un cavallino appena nato sta in piedi, ma un essere umano no. Un essere umano ha bisogno di un lungo accudimento prima di poter diventare in qualche modo minimamente autosufficiente. L'abbiamo visto, ci sono stati noi così e poi lo vediamo nei nostri figli, nei nostri nipoti, eccetera, eccetera. Quindi Avigia non è una nescenza cosmica, ma è semplicemente la nescenza che è lo stato nel quale noi prendiamo nascita in questo mondo. La nescenza fa sì che noi andiamo in giro per il mondo. Veniamo al mondo e non sapendo niente, siamo nescenti, nascita, però dobbiamo mangiare e sopravvivere. Che cosa facciamo? Agiamo. Ma queste azioni costituiscono già dei, agendo, contraiamo dei debiti karmici. Facciamo danni. Nescenti siamo come elefanti in una cristalleria che se si muovono rischiano di rompere tutto e talvolta rompiamo tutto. Quindi il fatto che noi nasciamo e che cominciamo subito ad accumulare un debito karmico è una cosa che riguarda tutti gli esseri senzienti. Non possiamo farne a meno. questi debiti karmici, queste formazioni karmiche vanno ad accumularsi dove? Dentro il nostro organismo. Infatti queste formazioni karmiche, Sankara, sono queste formazioni che fanno sì che noi accumuliamo dell'energia reattiva che, se stimolata, può diventare buona essere all'origine di azioni più o meno sane, più o meno salutari. Bene, allora, noi nasciamo già condizionati, però non nasciamo saputi, cresciuti. Noi abbiamo bisogno di accumulare conoscenza e questa conoscenza la possiamo accumulare perché dal fatto che noi nasciamo da formazioni karmiche, queste formazioni karmiche già ci portano a nascere corredati di tutto quello che ci serve per vivere. Quindi quando nasciamo è come il televisore che si accende, siamo delle tabule rase ma percettive. Quindi il terzo anello è Vignana. E io mi fermerei qui per questi anelli perché rischio di mettere un sacco di... cosa ci mettiamo sul fuoco? Seitan? Soia disidratata. Bene. Va bene. Adesso chiudiamo qui. Io credo che così avrei finito questa introduzione, che però è stata una lunga introduzione. Semplificando potremmo dire che il nostro cervello, anche da un punto di vista neuropsichiatrico, ce ne sono due. C'è l'antico cervello arcaico, archeo, che è l'amigdala, non so se avessero termini troppo tecnici, troppo complicati, ma comunque abbiamo come un cervello arcaico che contiene le istruzioni che sono state acquisite durante una lunga permanenza, una lunga evoluzione delle specie, specialmente nel periodo in cui gli esseri erano quasi tutti dei rettili, per questo chiamano il cervello rettile. Dentro di noi c'è ancora la spenta del tirannosauro, del tirannosaurus rex. Questi rettili erano poveri vesti e spaventatissime. Anche quelle ferocissime erano feroci perché spaventate. Cioè, quando il cervello rettile si allarma, agisce inconsultamente. La causa è all'origine di tutti quanti, di molti dei nostri problemi, sia con noi stessi, sia con le altre persone. Mentre invece la neocorteccia, manas, che è quella più razionale, è possibile alimentarla e anche riprogrammarla. Mentre invece col cervello rettile è un po' dura riprogrammare. Non so se è chiara questa spiegazione per te. Però noi in ogni istante abbiamo a che fare con tutte queste stratificazioni del nostro cervello. Quindi, tu hai giustamente nominato la parte emotiva. La parte emotiva è quella. La parte emotiva è l'amigdala. L'amigdala è il controllore delle emozioni. Ma non è che si è controllore, è proprio che controlla il modo in cui noi ci sentiamo. Quando l'amigdala decide che noi dobbiamo avere paura. Non chiede mica il permesso alla neocorteccia di attivare la paura. L'attiva e basta. In realtà è al comando. È come se mi consenti quella vecchia favoletta che spesso si racconta negli ambienti. È una bella favola, oltretutto anche da raccontare ai bambini. Tu ne hai uno. Che c'erano questi due. Sono uno un bambino e un altro un vecchio. Pelle rossa, un vecchio nativo americano, che sono seduti e guardano questo meraviglioso paesaggio al tramonto. E il bambino chiede al vecchio, ma senti un po', nonno, ma come mai? Alcuni uomini sono buoni, altri sono cattivi. E allora il vecchio, fumando la sua pipa, dice, guarda, in realtà dentro ogni uomo ci sono come due lupi, uno bianco e uno nero. Il lupo nero non è interessato alla tua evoluzione, al farti stare bene, eccetera. Quello lì, il lupo nero, ha solo la visione di farti stare male. E allora che cosa fa? È in lotta con quell'altro, invece il lupo bianco, che ha invece l'intenzione e la predisposizione e anche a farti stare bene, a renderti felice, a fare la tua felicità. E sono continuamente in lotta tra di loro. Uno ti vuole spaventare, l'altro ti vuole aggredire, l'altro ti vuole proteggere e quindi tenere lontano dai pericoli, eccetera. Il bambino rimane stupito e comincia a pensare e dice, ma nonno, e quale dei due vince? Il nonno gli dice, quello a cui tu dai da mangiare. Allora, se noi diamo da mangiare al lupo nero, al tirannosaurus rex che c'è in noi, immagina che cosa succede alla nostra vita. E noi in che modo andiamo ad alimentare il tirannosauro? O il lupo nero o qualunque altra immagine, il cervello rettile, archeo, come vogliamo chiamato. E quando siamo sospettosi, siamo rancorosi, odiosi, rabbiosi, tutte queste emozioni che fanno parte proprio del cervello archeo, che oltretutto è dominante perché per migliaia di anni c'è stato solo lui, poi dopo c'è stato un altro cervello che è venuto dopo, che è chiamato anche cervello mammifero. E poi infine la neocorteccia che però è la massima parte del nostro cervello. Non sono un neuropsichiatra, ma mi pare che sia più del 90%. Perciò nonostante quel piccolo cervello rettile comanda. È in grado di buttarci nel... Quando uno dice ho gli attacchi di panico, eccolo lì, è questo, è sempre questo lupo nero che ci mette nei casini. Allora, come si alimenta il lupo nero? Lo sappiamo, alimentando la paura, no? Alimentando l'odio, alimentando l'ostilità, coltivando pensieri di rancore, di rivalsa, di vendetta e tutte queste cose che purtroppo hanno segnato il corso della storia dell'umanità in maniera negativa e molto a fondo. Il cervello, la neocorteccia invece, viene alimentata da pensieri come quello che tu hai appena espresso, che tutti gli esseri siano felici. Pensieri benauguranti, pensieri benedicenti. Non è un caso che tutte le religioni, ma veramente tutte, prescrivano di proferire parole di benedizione, prescrivano di mantenere la mente in uno stato di pace attraverso la coltivazione di pensieri puliti, pensieri dolci, pensieri amorevoli, benauguranti, compassionevoli. C'è l'umanità, la scoperta, cioè hanno scoperta i nostri antichi questa via. Noi adesso abbiamo anche altre parole per descriverla, ma alla fine la descrizione del vecchio sciamano è perfetta. Ci sono noi due tendenze. Gli ebrei dicono Yetzir Hara e Yetzir Tov. La cattiva è la buona inclinazione e vince quella che tu alimenti. Per questo che noi meditiamo, e io dico sempre, cercate di non smettere mai la meditazione senza formulare un pensiero benedicente. Non lo state facendo per gli altri, lo state facendo per voi. Se non volete essere generosi, fatelo per utilitarismo, fatelo nel vostro interesse. Più mantenete la mente in uno stato di pace, come la volta scorsa che è stato guidato il Metta Sutta da Renata, che non... Eccola lì, la vedo. Più noi manteniamo la mente in queste condizioni, addirittura nel Metta Sutta dice finché si svegli tutto il giorno mantenete la mente in questa condizione benedicente. Ed è proprio a questo proposito che la volta scorsa avevamo anche citato Francesco da Sisi e il suo Cantico delle Creature, che è in effetti una benedizione che comprende tutto l'universo. Quando benediciamo stiamo benedicendo noi stessi. Facciamo fatica a capirlo questo. Ma a poco a poco questa cosa poi viene. E se ci abituiamo a coltivare non pensieri positivi, ma pensieri evolutivi, io preferisco chiamarlo, piuttosto che pensieri regressivi, la nostra vita cambia. Come pensiamo, così diventiamo. E la nostra felicità dipende da come pensiamo. Chi ha visto il film Matrix si ricorderà come si chiama il protagonista, si chiama proprio Neo, Neo dicono. Ma è perché rappresenta questa parte evolutiva che abbiamo tutti quanti ce l'abbiamo, non è che qualcuno ce l'ha o non ce l'ha. Ce l'abbiamo tutti. Dipende solo se l'alimentiamo, se l'afforaggiamo, se facciamo uno yoga della parte evolutiva del cervello. Eravamo rimasti su papancia. Vi ricordate questa parolina? Quella parolina la cui traduzione migliore in italiano forse è sopra pensiero. Dici sopra pensiero perché è un pensiero sopra un pensiero. È il primo anello di quella catena di associazioni che fanno il conto corrente degli psicanalisti. Un altro nome di questo papancia è fantasticheria. Quando i bambini fantasticano tutta la fantasia è molto sviluppata. Purtroppo, cominciando a fantasticare, cominciamo a prendere questa abitudine anche ad astrarci dal contatto con la realtà del momento presente. Questo non è esattamente quello che sarebbe desiderabile per la nostra evoluzione spirituale. Un altro ancora, un altro nome ancora di papancia, quello che usa Carlos Castaneda, forse qualcuno avrà letto qualcosa dei suoi libri, è Dialogo interno. C'è un bellissimo testo di Castaneda che forse ce l'ho a proposito del dialogo interno. Lasciate che guardi se ce l'ho, se ce l'ho, se ce l'ho. Eccolo qui. Carlos dice, per anni ho cercato veramente di vivere secondo i tuoi insegnamenti, dissi. Evidentemente non l'ho fatto bene. Come posso fare meglio adesso? E Don Kuan risponde, tu pensi e parli troppo. Devi smettere di parlare a te stesso. Cosa intendi dire? Parli troppo con te stesso. Non sei l'unico a farlo. Tutti noi lo facciamo. Portiamo avanti un discorso interiore. Pensaci. Quando sei da solo cosa fai? Mi parlo. E di che cosa ti parli? Non lo so di qualsiasi cosa, presumo. Te lo dirò io di che cosa parliamo con noi stessi. Parliamo del nostro mondo. Ed è proprio grazie a questo nostro dialogo interiore che lo preserviamo. Come facciamo? Ogni qualvolta parliamo di noi e del nostro mondo, il mondo rimane sempre come dovrebbe essere. Con questo nostro dialogo lo rinnoviamo, gli infondiamo vita, lo puntelliamo. Non solo. È mentre parliamo a noi stessi che scegliamo le nostre strade. Ripetiamo quindi le stesse scelte fino al giorno della morte, poiché fino a quel giorno continuiamo a ripeterci le stesse cose. Un guerriero è consapevole di questo atteggiamento e si sforza di fermare il suo dialogo interno. Questa è l'ultima cosa che devi sapere se vuoi veramente vivere come un guerriero. Come posso smettere di parlare con me stesso? Innanzitutto devi usare le orecchie per togliere agli occhi una minima parte del tuo fardello. Dal momento in cui siamo nati usiamo i nostri occhi per giudicare il mondo. Parliamo agli altri e a noi stessi principalmente di ciò che vediamo. Un guerriero ne è consapevole e ascolta il mondo, ascolta i suoni del mondo. Misi via i miei appunti. Don Juan affermò ridendo che non intendeva spingermi a forzare il risultato perché i suoni del mondo dovevano essere ascoltati in modo armonico e con grande pazienza e rispetto. Un guerriero è consapevole che il mondo cambierà non appena smetterà di parlare con se stesso, disse, e deve essere preparato a quel colpo formidabile. Cosa intendi dire Don Juan? Il mondo è questo, è quello o è così o è così perché diciamo che è nel modo in cui è. Se smettessimo di dire a noi stessi che il mondo è così e così, il mondo cesserebbe di essere così e così. E in questo momento non penso che tu sia pronto per un colpo così importante. Perciò devi andare ad agio, iniziare lentamente a disfare il mondo. Allora, io direi che possiamo concludere con la nostra Serenity Prayer in forma breve. Che tutti noi esseri sentienti di questo sconfinato universo possiamo trovare la serenità per accettare le cose che non possiamo cambiare. Possiamo trovare la forza e il coraggio per cambiare le cose che possiamo e infine trovare la saggezza per distinguere le une dalle altre. Sadhu, sadhu, sadhu.